Questa giornata del campionato di Serie D, il Salerno è di scena a Villacidro contro il Progetto Sant'Elia. Ci sono anche una trentina di supporters salernitani che hanno raggiunto la Sardegna per star vicini alla squadra di Perrone. Che schiera i suoi col 4-2-3-1, Sestito in porta, difesa con Calori, Giubilato, Chiavaro e Chiri eletti, Proia e Giacinti a Fardadiga in mezzo, Polani, Caputo e Picciolo alle spalle di Biancolino. Dopo 10 minuti proprio il pitone viene atterrato alle spalle da Gianniciello appena entrato in area di rigore per l'arbitro il signor Rossi di Rovigo. Il contatto è chiaramente falloso, a munizione per il difensore della formazione Sarda che vedete pesta il piede dell'attaccante del Salerno. Rigore trasformato da Max Caputo, Salerno in vantaggio al decimo minuto con la prima trasformazione stagionale per l'ex attaccante della Juve Stabia. Rivediamo l'esecuzione perfetta dal dischetto di Max Caputo che porta dunque in vantaggio la formazione cara all'Otito in mezzo a Roma. La reazione dei padroni di casa, Proia protegge l'uscita di Sestito, incoraggiata dai suoi sostenitori la squadra di Perrone inizia a macinare gioco. Ci prova dalla lunga distanza, Polani blocca Di Leo, lo scambio ravvicinato Caputo-Biancolino. La conclusione di quest'ultima deviata da un difensore, Di Leo si rifugia in calcio d'angolo. Prove di intesa tra Biancolino e Caputo, poi il sinistro pezzo forte del repertorio dell'ex attaccante del Cosenza. Caputo ancora per Biancolino, alza la testa, vede l'arrivo della corrente Picciolo, lo serve. Destro, debole Di Leo, si salva senza problemi particolari. Buona l'azione di ripartenza del Salerno Calcio, un po' meno la fase di finalizzazione di Picciolo. Mentre Perrone dispensa consigli a tutti con le immagini, passiamo alla ripresa l'assist di Picciolo per Biancolino, che non lo sfrutta a dovere. Ancora una buona giocata dell'ex esterno d'attacco dell'Atletico Roma. I tifosi seguono con attenzione queste fasi concitate del match Sestito. Impresa aerea non esemplare, disturbato anche da un avversario. Il gioco comunque era fermo per un fuorigioco. Ancora un fuorigioco a fermare l'iniziativa di Mazzotti sul filo dell'offside. Corner di Caputo, colpo di testa di Biancolino, svetta e il portiere del progetto Sant'Elia si rifugia ancora in calcio d'angolo. Salerno che dunque legittima il vantaggio e che insiste premendo sull'acceleratore. Biancolino per Caputo che allarga il gioco per Picciolo. Picciolo, limite dell'aria, Picciolo, serie di finte, rientra sul destro, tenta la battuta e Di Leo non riesce ad arrivarci. Primo gol di un under per il Salerno. 2-0 in casa del progetto Sant'Elia. Legittima l'esultanza di Picciolo. Raddoppio per il giallo-rosso-blu con il gol di interno destro per il giocatore cresciuto nell'Atletico Roma. Polani tenta questo pallonetto che per poco non si insacca alla destra del portiere avversario. Al centro dell'aria Biancolino chiedeva il pallone che riceve poi da Caputo ma si divora una clamorosa occasione proprio come era successo la scorsa settimana. Tira col destro, non è il suo piede e si vede. Dalla sinistra Frongia, Scodella al centro, cadono 3-4 giocatori in area, si continua a giocare. Alla fine il nuovo entrato, Farruggia, sigla il gol del 2-1, accorciano le distanze i padroni di casa. Azione a dir poco confusa, una mezza dormita della retroguardia giallo-rosso-blu, piazzata male. Il progetto Sant'Elia che dunque con Farruggia ne approfitta per dimezzare lo svantaggio dura poco l'illusione di poter riaprire la partita perché sul colpo di testa di Chiavaro un difensore della formazione sarda tocca con la mano un altro rigore per il Salerno Calcio. La trasformazione è affidata questa volta a Raffaele Biancolino, terzo gol consecutivo in partite esterne, quarto gol in assoluto per il Pitone che raggiunge in vetta la classifica marcatori del Salerno David Munar, oggi assente come Montervino per squalifica. Le forze dell'ordine vigilano affinché tutto fili liscio nel settore ospiti, si salva sul tentativo di Bergese Sestito e allora la festa può iniziare nel settore occupato dei tifosi salernitani. Prima vittoria esterna per il Salerno che sale a quota 14 punti in classifica generale. La squadra di Perrone stavolta non solo vince ma convince anche.